No, perché sappiamo che, come ho detto prima, è una partita fondamentale e io sento dentro l'ospedatorio che c'è il rischio di respirare a buono, come magari potrebbe essere contro il Liverpool e anche con il Lyon, quindi tutto dipenderà da noi, perché noi sappiamo che in casa ce la possiamo giocare con chiunque, sia con una grande squadra che con una piccola squadra. Sappiamo che in Champions non ci sono partite facili perché sono tutti i campioni del loro campionato, quindi io penso che noi dobbiamo giocare la Fiorentina, poi a fine gara tirano lo secondo perché io ho visto appunto in televisione e hanno, giocano veramente bene, hanno un po' di difficoltà in difesa ma forse è che siamo stati veramente bravi noi a ricercare quelle situazioni che comunque provano in maniera meno.